Morire a 20 anni durante un intervento in teoria semplice, il Ministero della Sanità ha inviato un'ispezione all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove il 12 gennaio Gabriella Cipolletta è morta nel corso di un'interruzione di gravidanza, forse a causa di un'emorragia. Secondo la direzione dell'ospedale i protocolli sono stati seguiti correttamente. Il Cardarelli ha aperto un'inchiesta interna, oltre a quella della magistratura. L'avvocato della famiglia, Domenico De Rosa. Subisce la tragedia estrema di morire in una sala operatoria del più grande ospedale del sud Italia. Questa è la realtà storica. Poi le realtà penali, gli altri tipi di realtà, dobbiamo per forza attendere. La ragazza aveva deciso di abortire per l'alta probabilità di malformazione del feto a causa dell'assunzione di un farmaco. La madre Emilia Cimetti. I medici non uscivano, non usciva nessuno. Uscivano i portantini che portavano il sangue, uscivano le tirocinanti con una faccia, erano ragazzi come mia figlia, con una faccia allucinata. Nessuno vi è uscito per dirgli? No, sono usciti dopo un paio d'ore. Signora la situazione non è grave, è gravissima. Prima ho avuto l'emorragia, poi ho avuto l'embolo, poi ho avuto un collasso cardiaco, voglio sapere cosa ha avuto mia figlia e voglio giustizia. Voglio solo sapere la verità e se hanno sbagliato devono rimanere a casa a fare l'uginetto.